GF VIP, Notte di tensione, Antonino sfiora rissa con Patrizia, lite con Alberto, video. Notte di tensione all'interno della casa del grande fratello VIP. Al centro dell'attenzione è finito Antonino Spinalbese. Che si è ritrovato protagonista di una rissa sfiorata in casa con Patrizia Rossetti e di una lite dai toni accesi con Alberto De Pisis. A distanza di tre mesi dall'inizio di questa avventura, il clima inizia ad essere particolarmente teso e tra i concorrenti sono volate parole grosse. Al punto che Patrizia ha perso le staffe ed è arrivata faccia a faccia contro l'ex fidanzato di Belen Rodriguez. Nel dettaglio, la prima discussione scoppiata nel cuore della notte all'interno della casa del grande fratello VIP 7 è tarivisto protagonisti Antonino e Alberto che ha perso le staffe con il coinquilino. I due si sono ritrovati ai ferri corti dopo che Antonino ha accusato Alberto di aver sparlato di Luca Onestini fin dal primo giorno in cui ha messo piede all'interno della casa di Cinecittà. Immediata la reazione di Alberto, che non ha gradito per niente l'attacco di Antonino. Complice anche il fatto che da un po' di tempo il loro rapporto di amicizia si è deteriorato e quindi ha chiesto all'ex di Belen di non tirarlo in mezzo alle sue dinamiche. Sei una delusione, taci perché ne hai già sparate tante. Non menzionare mai più il mio nome. Ha sbottato Alberto puntando il dito contro il suo compagno di gioco all'interno della casa del grande fratello VIP 7. Se io dovessi dire le cose che tu hai detto di tutti fai silenzio, credimi. Ha proseguito ancora Alberto decisamente furioso contro Spinalbese. Ma chi credi di essere, basta Antonino, ha chiusato ancora Alberto che ha invitato l'ex fidanzato di Belen a volare basso all'interno della casa del grande fratello VIP. Ma non è finita qui, perché nel cuore della notte anche Patrizia Rossetti ha puntato il dito contro Antonino Spinalbese. In questo caso, si è arrivati a sfiorare la rissa. La conduttrice ha affrontato faccia a faccia l'ex compagno della Sugar l'Argentina. Tanto da non farsi problemi ad urlargli in faccia e far temere il peggio. Non fare la furba, ha sbottato Antonino contro Patrizia Rossetti tacciandola di aver sparlato di alcuni concorrenti di questa settima edizione. Non devi fare così, ha subito replicato Patrizia visibilmente alterata e furiosa nei confronti dell'ex di Belen. Fai quello che vuoi, mi stai sputando, ha aggiunto Antonino che non si è fatto problemi ad affrontare la sua compagna di gioco al GF VIP. Grazie. 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 Grazie.